Arezza è una città sempre più cardioportetta grazie all'installazione di un nuovo defibrillatore in Piazza Grande, una donazione della famiglia Fassuoli che ha donato all'intera cittadinanza all'importante strumento medico. È stato fatto in memoria dei nostri genitori, Guglielmo e Bruna e siamo fieri di tutto ciò. La donazione è avvenuta anche grazie alla fraternità dell'AICI che è rappresentata qui dal primo elettore Pierluigi Rossi che ringrazio pubblicamente e voluta dalla nostra famiglia Fassuoli perché riteniamo opportuno che la Piazza Grande si dotasse di un defibrillatore per tutta la comunità. Anche un po' la vostra battaglia, riportare vita in Piazza Grande. Sicuramente noi ci teniamo molto alla nostra piazza e vogliamo che sia più viva possibile tutto l'anno vediamo tanti straniere forestieri e vorremmo vedere anche un pochettino più di Aretini perché per noi è uno dei posti più belli di Arezzo. La famiglia Fassuoli ha sempre contribuito proprio allo sviluppo culturale, economico e turistico di Arezzo. Il prossimo passaggio che la Fraternita intende fare insieme con la nuova Banca Etruria è dotare la Piazza Grande anche di un bancomat. Avanti sempre verso un miglior Arezzo. Ma non solo una donazione ma anche formazione per poter utilizzare appunto questo strumento da parte di 13 operatori di Piazza Grande. Noi operatori di piazza abbiamo fatto un corso proprio per poterlo usare al meglio. Abbiamo deciso di formarsi perché nell'eventualità ci fosse un soccorso quindi siamo in grado di poter utilizzare e magari anche provvedere per un miglioramento anche per altri cittadini. Grazie.